La registrazione è avviata. Allora, saluto gli studenti, saluto gli ospiti, saluto tutti gli amici che hanno voluto collegarsi, come dovrei dire, collegarsi. Pregherei ora poi tutti di spegnere sia audio sia video nel momento in cui parla la professoressa Stolzi, perché il messaggio è la visione arrivi forte e chiara. Siamo lietissimi di avere con noi la professoressa Stolzi, che è super specialista del tema, non fosse altro perché a questo tema ha dedicato un po' di anni fa un libro molto ampio e molto approfondito dal titolo L'Ordine Corporativo, leggo il sottotitolo, che è Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista. Nell'ambito del nostro corso, che sostanzialmente inaugura, il più ampio tema nel cui interno si inserisce l'intervento della professoressa Stolzi è quello di capire le ascendenze corporative e o pubblicistiche del nostro diritto sindacale. Cioè, il diritto sindacale, quando parliamo di diritto sindacale, nella sua accezione ovviamente post-costituzionale, che influenze ha avuto da visuali corporativi o visuali pubblicistiche e invece, quello che già sappiamo, non scopriamo l'assassino, come mai siamo scivolati su una visuale privatistica. Questo primo intervento, relazione, ci vuole parlare proprio del corporativismo. Ci parla del corporativismo e siccome, come ho già detto alla scorsa lezione e come ho detto a tutti gli amici che ho pregato e sono ben lieto che abbiano accettato, noi qui partiamo sempre da uno o più autori esponenziali di una certa linea di pensiero e a partire da questi autori, dopodiché ragioniamo sui concetti. Ecco, quindi oggi sono stati individuati due visuali diversi del corporativismo, un autoritario, l'altro invece, come dire, più sindacale, di Rocco e di Bottai, poi parleremo di Mortati, poi parleremo di Santoro Passarelli, poi parleremo di Tarello. Quindi si parte comunque da un pensatore che ha influenzato evidentemente con le sue idee e il dibattito successivo. Io mi fermo qui pregando solo la professoressa Stolzi magari di un dieci minuti puramente didascalici per gli studenti fondamentalmente, ma anche per noi ovviamente, ma comunque insomma agli studenti. Noi abbiamo provato nella lezione di lunedì a dare qualche nozione, però se ci dà un quadretto un po' più preciso di cosa si intende per diritto corporativo, storicamente inteso, cioè quello del ventennio fascista, credo che poi il discorso possa essere compreso meglio. Bene, prego la parola alla professoressa Stolzi. Buonasera a tutti, ringrazio veramente di cuore il professor Mazzotta per questo invito che ho accettato veramente con piacere, perché mi consente di tornare, diciamo, su uno dei, forse della mia prima passione scientifica, che è il corporativismo. Ho immaginato questa conversazione soprattutto come una conversazione destinata agli studenti, quindi mi scuseranno gli illustri colleghi che pure sono presenti, se a volte, diciamo, ci saranno parti, diciamo, più semplici o più note, diciamo, agli addetti ai lavori. Cercherò, come ha anticipato anche il professor Mazzotta, di dare anche qualche elemento, diciamo, conoscitivo, iniziale, per affrontare il tema, appunto, di questa conversazione. La scelta, appunto, di concentrarmi su due autori, mi è stato scelto, appunto, di chiedere due autori, il riferimento va a Alfredo Rocco e Giuseppe Bottai. Ora, le ragioni che mi hanno indotto a concentrare o a scegliere questi profili sono forse intuitive, sono abbastanza intuitive. Si tratta di nomi che immagino abbiate già sentito ricordare, sono due personaggi di punta del ventennio fascista che coniugano una visione teorica piuttosto robusta sul corporativismo e poi vi dirò anche qualcosa, diciamo, di schematico per inquadrare questo tema corporativo. Quindi sono personaggi che dedicano, appunto, una riflessione teorica alla questione del corporativismo, ma che coniugano questa loro veste teorica con un'attività politico-istituzionale non meno rilevante. Ora, io guarderò essenzialmente al corporativismo dal punto di vista della storia del pensiero giuridico-gius-politico, pur facendo riferimento, lo vedremo, anche ad alcuni dati normativi o istituzionali che spero consentano di collocare in maniera più chiara questi temi. Due parole veramente introduttive sui due personaggi scelti, sebbene appunto già noti, molto noti, Alfredo Rocco nasce come cultore delle materie privatistiche, da primo ordinario di procedura civile e poi di diritto commerciale, arriva al fascismo dal nazionalismo, cioè è milita nelle file del nazionalismo, è favorevole alla fusione col fascismo che si realizza nel 1923 e diventa da quel momento uno degli uomini di spicco del regime, anche nella costruzione del regime, entra nella Camera dei Deputati e soprattutto dal 25 al 32 è ministro della giustizia. Sostanzialmente è il principale architetto dello Stato Nuovo, se vogliamo utilizzare il titolo di un volume recentemente pubblicato da Treccani, cioè è il personaggio che più di altri contribuisce a connotare la svolta autoritaria e dittatoriale del regime. Sostanzialmente l'autore firma tutte le leggi fascistissime e vedremo che si deve a lui anche la legge sindacale del 1926. Legge sindacale su cui mi soffermerò tra poco, ma conviene fin d'ora dire che Rocco inserisce questa legge all'interno di un ciclo normativo più ampio che comprende tutte le cosiddette leggi fascistissime. Quindi dal suo punto di vista è un intervento normativo decisivo per connotare in maniera corporativa il volto del nuovo Stato. Muore nel 1935 e questo non ci consente di sapere come Rocco avrebbe vissuto i successivi faticosi sviluppi della macchina corporativa e dello stesso regime fascista. Giuseppe Bottai è un personaggio ugualmente rilevantissimo, fascista della primissima ora, partecipa alla fondazione dei fasci di combattimento, anche lui laureato in giurisprudenza con qualche interruzione nei suoi studi, è sottosegretario al Ministero delle Corporazioni dal 26 al 29, è ministro fino al 22 e poi la fine del suo dicastero è stata imputata anche a dissapori forse con Mussolini e dopo un giro di incarichi nelle colonie italiane è dal 36 al 43 ministro dell'educazione nazionale. E a lui si deve, tra le altre cose, l'elaborazione della carta della scuola che veramente è un documento dal quale traspare l'intenzione di fare della scuola proprio la fucina del nuovo italiano fascista, quindi l'importanza di un sistema educativo capace di convertire, diciamo così, alla causa del fascismo le giovani generazioni e fu anche tra favorevole alla politica razziale ma anche uno dei più zelanti applicatori delle norme di discriminazione razziale nel contesto scolastico. È tra coloro che firmano l'ordine del giorno grandi del 25 luglio del 43 che determina la fine del regime mussolimiano e nelle sue memorie, nelle sue valutazioni retrospettive tenderà sempre ad accreditare se stesso nella veste del fascista critico questo è il titolo di un altro libro di qualche anno fa cioè del fascista che resta fedele agli ideali delle origini e che si distanzia da quelle che lui reputa delle degenerazioni del regime un regime che degenera in mussolinismo in ducismo che perde, è quella flato ideale originario che dal suo punto di vista caratterizzava il fascismo delle origini. Bisogna dire anche un'ultima cosa che mi consente poi di proseguire il discorso Giuseppe Bottai è un infaticabile organizzatore culturale cioè è convinto che la politica culturale rappresenti un capitolo essenziale della politica tout court del fascismo fonda molte riviste e anche non solo relative a diverse tematiche da riviste letterarie a Il diritto del lavoro che è una palestra di discussione alta ma anche riviste militanti che si rivolgono a un ruitorio più vasto ed è convinto appunto che la cultura alta debba essere una zona del dibattito in cui non circola aria troppo viziata cioè ci può essere spazio anche per uno scambio relativamente libero di idee perché l'idea è appunto quella che attraverso questo scambio relativamente libero il regime non perde il suo mordente ideale. C'è poi una cultura più popolare o più divulgativa che invece deve essere come dire convintamente orientata a indottrinare le masse a impregnarle appunto dei valori di cui si faceva l'atore il regime. E qui entro un po' più in media stress. Sono due profili che ho scelto anche perché consentono di dire qualcosa su una questione a lungo dibattuta dalla storiografia quella dei giuristi di regime. Chi sono questi giuristi di regime e come possono essere identificati? Per molto tempo le letture dei rapporti tra fascismo e giuristi sono state condizionate dalle letture di quei giuristi che avevano vissuto durante il ventennio e che avevano teso a rappresentare il rapporto tra giuristi e regime nei termini di una sostanziale indifferenza. Anche in buona fede queste letture furono date non necessariamente per tutelare una memoria di ceto, una memoria di categoria. Una delle letture più note e che è stata anche all'origine diciamo poi di letture successive è come forse sapete quella di Salvatore Pugliatti. Salvatore Pugliatti nel 1950 pubblica un articolo nel quale sostanzialmente divide il lavoro giuridico durante il ventennio in due grandi filoni in due grandi categorie. Da un lato dice lui ci sono i giuristi gli unici degni di questo nome i giuristi giuristi che a suo dire hanno svolto sotterraneamente dice lui un'opera da formica usa questa espressione per impedire la totale fascistizzazione del diritto e hanno svolto quest'opera da formica rimanendo ostinatamente fedeli a una visione formalistica e individualistica del mestiere giuridico che avrebbe appunto salvato l'ordinamento da precipizi ulteriori come quelli appunto del diritto nazionalsocialista del diritto della Germania appunto nazionalsocialista. Quindi il formalismo viene eretto sostanzialmente al principale tecnica di resistenza della scienza giuridica nei confronti del regime. Sull'altro versante Pugliatti colloca i giuristi di regime dal suo punto di vista non sono neanche giuristi sono apologeti cioè vengono come dire intacchettati vengono visti come un'unica categoria omogenea al proprio interno e collocata indistintamente sul piano deteriore dell'apologetica. Ecco, la storiografia degli ultimi decenni devo dire ha rivisto questa visione e a tal fine io tendo sempre a citare un libro piccolo ma pregnante come spesso succede ai libri piccoli ma ben pensati che esce nel 1963 e che resta un prodotto isolato per molto tempo. Diciamo, l'indicazione contenuta in quel libro forse viene raccolta una ventina d'anni dopo in maniera più diffusa tra la storiografia. Questo libretto lo scrive Paolo Ungari e si intitola Alfredo Locco e l'ideologia giuridica del fascismo. È un libro rilevante perché è provocatorio rispetto allo stato appunto delle interpretazioni coeve è provocatorio fin dal titolo. Cioè il fascismo viene presentato come un fenomeno capace di produrre anche una ideologia giuridica e Alfredo Rocco viene assunto un po' a emblema di questo volto giuridico del fascismo. Alfredo Rocco ha un pedigree di giurista è un giurista giurista innegabile e quindi Ungari mostra la perfetta compatibilità dell'abito tecnico del giurista con l'espressione di contenuti consapevolmente distanti volutamente distanti dall'immaginario giuridico ottocentesco dall'immaginario giuridico diciamo così per semplificare un po' individualistico liberale. Quindi da questo libro emerge un'indicazione forte cioè che la galassia dei giuristi di regime non è popolata soltanto da personaggi vesceri da personaggi chiassosi che ci furono furono tanti e molto fastidiosi ma anche da intelligenze di primordine diaboliche come dire può essere molto complesso da accettare questo ma sicuramente Rocco e Bottai ci consentono di dire che sia di fronte a due autori lucidi che si impegnano a definire anche attraverso il corporativismo lo dirò subito i contorni il perimetro di un nuovo spazio gius politico che a loro dire il fascismo doveva disegnare quindi consentono diciamo di recuperare questa categoria dei giuristi di regime e di non liquidarla diciamo come una scoria passeggera la tentazione di mettere tra parentesi il fascismo è stata forte anche motivata da esigenze molto serie ma ha impedito diciamo a volte di fare i conti con questo periodo e anche con l'eredità che questo periodo ha lasciato sulla storia successiva cito sempre una frase di Mosse forse gli studenti non l'hanno mai sentito nominare George Mosse che è anche per ragioni autobiografiche ebreo tedesco costretto a fuggire dalle persecuzioni razziali coinvolto nello studio del totalitarismo e lui dice che non si riuscirà mai a capire i totalitarismi se non si mette come dire se non non si considera il fatto che si sono stati in grado di attrarre come dire il popolo minuto di attrarre persone forse più facilmente condizionabili ma anche dice lui i premi nobili cioè sono stati fenomeni guardati con interesse anche appunto da personaggi muniti di una notevole strumentazione culturale che hanno visto in queste stagioni una possibile risposta alla crisi in cui versavano gli ordinamenti all'indomani della prima guerra mondiale questo ci consente di dire anche un'altra cosa cioè il giurista di regime non è il giurista prono alla direttiva di regime anche perché come dire queste direttive spesso non erano univo che voi sapete che il fascismo ha una pluralità di anima una complessità intrinseca e diversamente interpretato anche da coloro che vi aderiscono con entusiasmo quindi non solo da chi vi aderisce per opportunismo ma anche chi vi aderisce con entusiasmo ha spesso un'idea diversa sulla missione storica del fascismo sulle caratteristiche che il fascismo avrebbe dovuto avere quindi i giuristi di regime sono una galassia articolata con diversi livelli di capacità di riflessione di impegno istituzionale ma una galassia che come dire dibatte spesso si scontra proprio sulle caratteristiche che il fascismo avrebbero avrebbe dovuto avere vi chiedo se non vedendo le vostre facce vi chiedo se mi seguite se è chiaro perché ho sempre il terrore parlando di fronte a uno schermo chiedo soprattutto agli studenti mi state seguendo? Buonasera sì sì io riesco a seguirla bene comunque non so se anche il professore è d'accordo ma ho visto che in altre lezioni alcuni professori fanno accendere tipo a una decina di ragazzi delle telecamere in modo in maniera che almeno chi parla l'interlocutore ha qualche viso da seguire non so se potete cioè se la può arrendere se la può aiutare io sono anche disposto ad aiutarla in questa maniera non mi faccio problemi come preferisce e se il professore va bene per me davvero non ci sono problemi anche io faccio così faccio in modo di vedere quelle due se vogliamo provare a accendere così almeno ho qualche viso di fronte se poi vediamo che non regge la connessione magari spegniamo come volete mi preme soprattutto ecco sapere che gli studenti ce la seguono e che non sì sì per me non ci sono non ci sono problemi guardi un attimo subito buonasera 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 dunque diciamo Rocco e Bottai pur essendo lo metteremo in modo cercherò di metterlo di evidenziarlo profili non sovrapponibili tuttavia condividono alcuni alcuni tratti appunto della loro visione innanzitutto sono d'accordo nel nel modo di valutare la crisi dello Stato liberale ora il tema della crisi è un tema diffuso diciamo insistentemente diffuso nella letteratura anche giuridica del primo dopoguerra è diffusa l'immagine dello Stato assediato cioè di uno Stato che viene insidiato scosso diciamo nella sua solitudine sovrana nella sua maestà sovrana da questa società che si organizza da questa società di massa che è una società percorsa da organizzazioni che sono spesso anche in conflitto tra loro quindi questa nuova società che ribolle preme sullo Stato appunto lo assedia ne insidia la solitudine sovrana questa immagine della crisi è condivisa più o meno da tutti anche dalla vecchia guardia liberale penso ad alcuni testi di Orlando per esempio di Mosca ed è condivisa direi da tutti anche da tutti i giuristi di regime ciò che distingue appunto la posizione di Rocco e Bottai e anche di altri ma qui ci occupiamo di loro è la ricostruzione delle ragioni di questa crisi secondo loro lo Stato liberale si è condannato a un irreversibile declino e dal loro punto di vista anche a un meritato declino perché è uno Stato lontano dalla società cioè il liberalismo ha fatto il grande errore di considerare la sovranità una funzione di distanza lo Stato è sovrano se in quanto capace di tenere la società a debita distanza dice Bottai è uno Stato immobile e lontano e questa sua caratterizzazione lo ha portato a soccombere agli assalti della società una volta che la società appunto non manteneva più le distanze e violava diciamo per così dire quel patto di non interferenza tra Stato e società di cui l'altro difetto dello Stato liberale condiviso sia da Rocco che da Bottai lo Stato liberale dice Rocco è uno Stato agnostico cioè è uno Stato permeabile a ogni idea a ogni contenuto è uno Stato cioè che non si fa l'atore di un proprio progetto di convivenza di una propria visione del mondo intorno alla quale aggregare tutte le energie politiche sociali ed economiche lo Stato dice Rocco non deve affermarsi solo come forza ma deve affermarsi anche come idea ed è impossibile riprogettare le coordinate dell'autorità statuale di questo Stato in crisi c'è una bellissima e nota immagine di Capograssi che definisce lo Stato Posbelli con un povero gigante scoronato quindi l'idea di questo gigante che appunto ha perso la sua maestà sovrana è impossibile dicevo ridisegnare le coordinate dell'autorità statuale senza muovere da una ricognizione realistica della società dice Rocco le cose sono cambiate radicalmente il giorno in cui le masse hanno fatto la loro comparsa nella storia Bottai gli fa eco dicendo si può non adorare la massa ma non si può ignorarne l'esistenza quindi è perfettamente inutile discorrere di rifondazione dell'autorità dello Stato senza fare i conti con le caratteristiche di questa società di massa che è appunto una società organizzata ed è una società conflittuale è inutile come fa una parte della vecchia guardia liberale paventare il ritorno al medioevo dire che questo ribollire di gruppi di organizzazioni riporterà gli orologi della storia indietro al medioevo questo è un atteggiamento inutile anacronistico bisogna vedere nello sviluppo della società in gruppi ed organizzazioni importato dell'evoluzione storica col quale fare i conti e qui entra in gioco il corporativismo il corporativismo dal punto di vista di Rocco e di Bottai e chiaramente anche di altri doveva rappresentare un po' la quadratura del cerchio la risposta vincente cioè lo strumento capace di rifondare appieno l'autorità dello Stato salvandolo dalla fragilità dell'isolamento detto diversamente rifondare l'autorità dello Stato immaginando costruendo una relazione stabile tra Stato e società facendo in modo che questa relazione non soffocasse lo Stato ma ne in qualche modo garantisse o addirittura ne moltiplicasse la potestà sovrana la autorità in maniera come diceva il professor Mazzotta di Vascalica alcuni piccole tappe per capire di che cosa stiamo parlando il corporativismo avrebbe dovuto rappresentare la specifica versione italiana di terza via cosa vuol dire terza via la messa a fuoco di un sistema di governo diciamo delle relazioni economico sociali poi vedremo anche politiche capace di tenersi distante dalle due ricette opposte quella liberale liberista e quella socialista quella bolshevica quindi un sistema che continuava a riconoscere la proprietà e l'iniziativa economica privata ma che coniugava questo riconoscimento con un intervento pubblico stabile nel gioco economico e sociale intervento non diretto se non in casi eccezionali ma un intervento diciamo di coordinamento programmazione pianificazione governo quindi una ipotesi specificamente italiana di terza via esso avrebbe dovuto svilupparsi in due fasi successive interdipendenti la prima fase quella sindacale si realizza compiutamente diciamo così è la parte del corporativismo che funziona con la legge sindacale del 1926 su cui tornerò tra un attimo che è appunto che porta la firma di Alfredo Rocco e che disciplina in un certo modo in una cornice diciamo così autoritaria il fenomeno sindacale la seconda fase avrebbe dovuto svilupparsi attraverso la creazione delle corporazioni vere e proprie corporazioni erano organi dello Stato al cui interno sedevano esponenti delle amministrazioni pubbliche del partito nazional fascista e delle organizzazioni sindacali esse avrebbero dovuto rappresentare secondo l'espressione di Mussolini l'enfatica espressione di Mussolini lo Stato maggiore dell'economia italiana e quindi realizzare questi compiti di gestione di coordinamento di pianificazione del fenomeno economico anche attraverso l'esercizio di poteri normativi ho usato spesso il condizionale in questa discrezione perché se si esclude la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni che avviene nel 30 le istituzioni delle corporazioni vere e proprie avviene nel 34 con la legge del febbraio del 34 ma diciamo le corporazioni non decollarono non funzionarono secondo i piani oppure forse i piani erano anche quello di non farla funzionare questo non è ma insomma produssero effetti inferiore a quelli almeno declamati ostentati anche se devo dire una storiografia recente a mio parere acuta ha messo in luce come questo esperimento corporativo pur avendo prodotto esiti molto inferiori appunto a quelli dichiarati poi chissà appunto ripeto se voluti o meno non sia stato così irrilevante come per molto tempo si è sostenuto mi limito a segnalarvi questo indirizzo stereografico al limite ci torniamo dopo se ci sarà un po' di discussione le corporazioni nacquero un po' stanche i loro poteri normativi rimasero sulla carta e si tradussero in una sorta di proliferazione di un ulteriore apparato pubblico che non decollò mai almeno secondo appunto quanto alcuni dicevano anche perché considerate che le forme dell'intervento pubblico più incisive si realizzarono a seguito della grande depressione soprattutto attraverso altri due istituti cioè l'IMI e l'IRI che diciamo fanno capo a una linea progettuale non direttamente corporativa il quadro si conclude nel 39 perché voi sapete che la camera dei deputati fu sostituita dalla camera dei fasci e delle corporazioni già il meccanismo elettorale era stato già completamente esautorato dalla riforma del 28 quella dell'istone voi sapete che l'elettore era chiamato a accettare o rifiutare in blocco l'elenco dei deputati proposto dal consiglio dal gran consiglio del fascismo e diciamo nel 39 cessa anche la finzione elettorale e viene inaugurata questa camera cui si accede in virtù delle cariche ricoperte in altre organizzazioni del regime in tutto questo ricordiamoci anche la carta del lavoro che è un documento che viene adottato nel 27 dal gran consiglio del fascismo il gran consiglio del fascismo nel 27 non è ancora un organo costituzionale dello stato è ancora come dire un organismo interno al partito nazional fascista tuttavia questa carta del lavoro che avrebbe dovuto rappresentare un po' la tavola dei valori la tavola costituzionale della nuova Italia corporativa viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale cioè le si riserva un trattamento normalmente riservato agli atti normativi e quindi si dibatte molto sul valore da riconoscere a questa carta che solo nel 41 ottiene un riconoscimento normativo formale perché viene pubblicata in premessa al codice civile e le sue dichiarazioni vengono definite vengono considerate come dichiarazioni necessarie appunto da considerare per l'interpretazione e l'attuazione della legge questo diciamo in termini appunto molto schematici la parabola di questa cosa appunto che si chiama corporativismo cosa vi vedono Rocco e Bottai come interpretano questa ipotesi corporativa innanzitutto ad essa dedicano come vi dicevo molte energie teoriche e altrettante energie diciamo istituzionali in ragione appunto della posizione dal loro ricoperta Rocco al Ministero della Giustizia Bottai a quello delle corporazioni dal loro punto di vista il corporativismo è l'occasione storica per superare una malattia risalente della storia occidentale attraverso una modellizzazione del passato che chiaramente serve a enfatizzare la novità e la bontà diciamo delle soluzioni fasciste Rocco ritiene che la storia occidentale dalla caduta dell'impero romano d'occidente sia malata di individualismo cioè questa categoria dell'individualismo viene non so come dire estesa dilatata diventa una categoria interpretativa ipertrofica che abbraccia tutta sostanzialmente la storia occidentale dalla caduta appunto dell'impero romano d'occidente all'avvento del fascismo Rocco dice noi col fascismo finalmente superiamo il medioevo è chiaro che questa contrapposizione frontale tra il carattere risolutivo delle soluzioni fasciste e secoli di storia precedente serve a far risaltare la novità e la qualità diciamo delle soluzioni fasciste cosa vuol dire per Rocco ma anche per Bottai individualismo vuol dire aver lasciato prevalere dice Rocco gli elementi disgregatori rappresentati dai gruppi e dalle organizzazioni sulla forza aggregante sulla forza centripeta del momento statuale il corporativismo dovrebbe avrebbe dovuto rappresentare la risposta capace di ripristinare la piena autorità dello Stato senza liquefare il momento sociale senza come dire replicare quelle immagini atomistiche di società che erano anacronistiche e massimamente pericolose proprio pericolose per l'autorità dello Stato quindi il corporativismo nasce come progetto viene concepito come progetto di governo del sociale che non ha nulla a che vedere né col corporativismo medievale né col corporativismo cattolico né col modo in cui attualmente ci riferiamo nel linguaggio comune a logiche di tipo corporativo il corporativismo medievale anzi è considerata l'antitesi del corporativismo fascista proprio perché espressione di un'autorità politica che stentava ad affermare la sua supremazia sui gruppi e le organizzazioni vedremo che al limite la corporazione medievale può essere apprezzata per quanto riguarda la sua organizzazione interna cioè come momento di organizzazione gerarchica del lavoro dell'attività produttiva ma dirò qualcosa in conclusione lo stesso corporativismo cattolico voi sapete da fine ottocento emerge anche questa vena corporativa cattolica importante ugualmente non può costituire un modello perché agli occhi di questi giuristi anche il corporativismo cattolico aveva una venatura antistatualista cioè nasceva anche come strumento per rimarcare l'originarietà e la come dire preesistenza al potere dello Stato delle organizzazioni sociali mentre il corporativismo dal punto di vista di Rocco e di Bottai serve a mettere a fuoco una nuova frontiera dell'autorità la frontiera totalitaria dice Ungari sempre in quel libro che vi ho citato all'inizio che il corporativismo si presenta come una delle necessità totalitarie dell'ordine nuovo cioè viene vissuto come uno strumento capace di dar corpo di dar voce a una nuova vocazione dello Stato quella totalitaria lo Stato totalitario infatti è uno Stato che non si appaga di esercitare una sorveglianza meramente come dire esteriore poliziesca sulla società ma mira a conseguire un obiettivo più ambizioso che è quella di conquistare il consenso della società attraverso una presenza pervasiva tentacolare nella società è uno Stato che vuole arrivare ovunque che vuole allagare inondare ogni lato della convivenza e quindi conseguire questa sua presenza appunto pervasiva tentacolare se voi aprite questa rivista che Bottai fonda nel 29 che si intitola politica sociale voi vedete che la politica sociale acquista un'estensione potenzialmente infinita è politica sociale per Bottai tutto ciò che concorre ad aggregare le masse intorno allo Stato a coagularle intorno alla visione del mondo di cui si fa espressione di cui si fa l'attore lo Stato l'arte il cinema lo sport qualunque mezzo può e deve essere utilizzato per conseguire questo risultato il corporativismo viene visto come uno dei canali per dar corso a questa nuova visione dello Stato lo Stato totalitario è immaginato come uno Stato demiurgo cioè come uno Stato capace di plasmare di modellare la società sottoposta al suo potere ed è uno ed è uno ed è uno Stato che ha bisogno appunto di conquistare la società e uno dei modi di conquistare la società è organizzarla cioè l'organizzazione del sociale la scansione del sociale in gruppi e sotto gruppi diventa una tipica prerogativa dello Stato e lo Stato corporativo è lo Stato che si fa carico di questo nuovo compito di catalogare di organizzare la società sottoposta al suo potere per questo in autori come Bottai meno il Rocco lo vedremo tra un po' il corporativismo diventa genericamente sinonimo di fascismo cioè lo Stato fascista è uno Stato corporativo nel senso che è uno Stato che accetta di organizzare la società sottoposta al suo potere sfruttando tutti gli strumenti di organizzazione che sono a disposizione quindi diventa una risposta di livello costituzionale al problema dello Stato dell'autorità dello Stato che travalica l'organizzazione dei rapporti di lavoro dei rapporti di produzione la legge del 1926 come vi dicevo prima costituisce la prima tappa ufficiale del corporativismo l'autore è Alfredo Rocco Alfredo Rocco a differenza di altri giuristi di regime non ama un linguaggio infatico non usa quella prosa a volte così barocca così enfatica di altri suoi compagni d'arme eppure definisce questa legge come la trasformazione più importante che lo Stato abbia subito dalla rivoluzione francese in poi cioè riconosce a questa legge la funzione di incarnare una svolta epocale nel modo di concepire lo Stato e le relazioni tra Stato e società i contenuti di questa legge in sintesi sono questi la legge innanzitutto è intitolata è la legge 3 aprile del 1926 numero 563 scusate ma insomma non è questo importante la legge si intitola legge sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro essa prevede l'unicità del sindacato riconosciuto cioè prevede che per ogni comparto produttivo venga riconosciuto un unico sindacato Rocco dice alla Camera apertamente non ho alcuna difficoltà a dire fin d'ora che il riconoscimento verrà dato ai soli sindacati fascisti perché a volte si è interpretato il fascismo anche come un regime che in qualche modo ha avuto una legalità presentabile o comunque ha presentato mire più accettabili e poi ne ha perseguite altre invece più contestabili ecco da questo punto di vista Rocco è chiarissimo nell'esplicitare nei suoi discorsi in Parlamento lo scopo della legge dice questa legge è un carattere cito totalitario e organico quindi nasce con un obiettivo chiaro e questo obiettivo si traduce anche nella unicità del sindacato riconosciuto nella legge non c'è scritto che il riconoscimento verrà attributato ai soli sindacati fascisti c'è scritto che verrà attributato a quei soli sindacati i cui dirigenti diano prova di sicura fede nazionale evidentemente questo requisito veniva ritenuto esistente solo in capo ai sindacati fascisti un altro elemento che concorre apertamente a valorizzare la posizione del sindacato fascista è che il riconoscimento poteva essere chiesto per i sindacati dei lavoratori era sufficiente che fosse un decimo dei lavoratori della categoria a chiedere riconoscimento o un decimo dei datori di lavoro della categoria quindi c'è un requisito numerico tutto sommato basso che consente di far decollare la presenza dei sindacati fascisti questa legge era stata preceduta nel 25 dal patto di Palazzo Vidoni che sostanzialmente attraverso il quale gli industriali riconoscevano come interlocutori i soli sindacati fascisti quindi unicità del sindacato riconosciuto abilitazione dei soli sindacati riconosciuti a stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes quindi diciamo questo tipo di contrattazione collettiva entra diciamo fa il suo ingresso nell'ordinamento italiano attraverso questa norma è inoltre prevista l'istituzione della magistratura del lavoro cioè di un collegio giudicante in parte composto da giudici togati e da due esperti tratti da determinati albi con competenza sulle controversie collettive di lavoro infine si prevede la sanzione penale per lo sciopero e per la serrata per la verità per la serrata solo se effettuata senza giusta causa mentre lo sciopero evidentemente si presumeva che fosse sempre ingiustificato ora se noi volessimo compendiare in una espressione sintetica rapida il senso di questa legge forse si potrebbe dire che questa legge mira a convertire le minacce in risorse ordinanti il sindacalismo e i sindacati sono stati visti come una minaccia all'autorità dello Stato la letteratura post bellica è come dire ricolma di riferimenti a un fenomeno quello sindacale che sembra rosicchiare che sembra erodere la sovranità dello Stato qui si trattava di trasformare i sindacati da minacce per la tenuta dello Stato a risorse ordinanti cioè a risorse fondative di un nuovo modo di concepire l'autorità dello Stato trasformarli dice Bottai dice questa legge dice Bottai trasforma i sindacati nei più fecondi ausiliari dello Stato quindi non devono più essere vissute come forze potenzialmente antagoniste rispetto allo Stato ma come dei collaboratori degli appunto ausiliari dello Stato al tempo stesso questa norma non si limita a trasformare il sindacato in una propaggine dell'amministrazione pubblica non si limita a dire il sindacato diventa uno dei tanti organi e organismi pubblici perché diciamo l'ordinamento corporativo nasce anche viene presentato anche come un'alternativa al potere burocratico su questo per esempio Bottai scrive pagine molto intense l'aumentare della burocrazia collide contrasta con le mire totalitarie dello Stato perché dice Bottai gli apparati burocratici solo apparentemente sono apparati neutrali sono cinghie di trasmissione neutrale degli ordini diciamo dal centro alle periferie ma in realtà hanno una forza di resistenza hanno una loro vischiosità una loro identità di corpo che rende quello della burocrazia un governo invisibile non meno forte però del governo visibile quindi la pubblicizzazione diciamo così del sindacato doveva avvenire in una strada attraverso una strada più intelligente e se voi scorrete le disposizioni di questa legge è una legge breve quindi si trova facilmente online voi vedete che questa legge inaugura quello che mi è sembrato di poter definire un sistema di potere a distanza variabile cioè è una legge che mette lo Stato in condizione in questo caso lo Stato il governo l'autorità governativa centrale o locale a seconda del livello dell'organizzazione sindacale mette l'organizzazione mette lo Stato in condizioni di decidere se come quando intervenire se il sindacato può darsi il proprio statuto può eleggere i propri dirigenti può vigilare sulla condotta morale degli iscritti da ammettere cioè ha una apparente autonomia ma tutti questi atti che il sindacato può compiere nell'esercizio di questa come dire limitata autonomia sono anche sottoposti a una vigilanza dell'autorità governativa che quindi diventa arbitra di questo dosaggio diciamo tra autonomia ed eteronomia che era molto rilevante molto rilevante proprio perché perché lasciava al potere pubblico intatti spazi di manovra ma consentiva anche di lasciare una sorta di illusione di autonomia che era ugualmente strategica ai fini della costruzione di un potere che si voleva totalitario in uno scritto retrospettivo Bottai rimprovera al fascismo e anche al sindacalismo di non aver impiegato abbastanza energie nella sua opera di persuasione di convinzione di cattura del consenso lui dice era così facile comandare i non iscritti che alla fine non si è curato l'interiore persuasione dei gruppi delle organizzazioni come dire il sindacato si è accomodato in una posizione di monopolio ha avuto come dire ha sfruttato male questa sicurezza che gli derivava dall'essere monopolista per non curare invece la sua missione vera che era quella di come dire catturare consensi di trainare i lavoratori sulle posizioni del regime se voi infatti vedete scorrete le disposizioni di questa norma voi vedete che i sindacati possono selezionare gli iscritti sulla base della loro condotta politica dal punto di vista nazionale possono vigilare leggo sulla educazione morale nazionale degli iscritti possono espellere gli iscritti che non diano prova appunto di queste qualità quindi il sindacato doveva veramente essere anche un terreno di cultura di cultura del consenso verso il regime non di inquadramento come dire burocratico inerte dei lavoratori e questo aspetto secondo Bottai non era stato sufficientemente coltivato cioè lo stato totalitario non dovrebbe solo catalogare a tappeto la società inquadrarla ma dovrebbe indurre la popolazione a inserire a entrare spontaneamente nelle associazioni e nelle organizzazioni del regime quindi questo dosaggio tra illusioni di autonomia e di eteronomia doveva essere anche funzionale a mantenere diciamo una vivacità partecipativa non so come chiamarla che altrimenti sarebbe stata spenta mi scusi posso farle una domanda certo senta ma quindi sostanzialmente se non ho capito male l'idea del regime fascista era quello di portare i sindacati dalla loro parte dandoli tra virgolette diciamo il contentino comunque la carota di una certa autonomia potendole in ogni caso levare quando lo stato fascista decideva e secondo gli autori appunto Rocco e Bottai non si è avuto una enfatizzazione diciamo dovevano lo stato fascista doveva incidere sul proselitismo relativamente ai sindacati permettendo quindi a chi era iscritto dentro il sindacato di essere sicuramente come dire sicuramente di stampo fascista e potevano fare proselitismo all'interno lei consideri che questo dosaggio tra autonomia ed eteronomia avviene già all'interno di un sindacato che è unico che è il sindacato riconosciuto fascista ma siccome c'è il problema anche di gestione degli apparati fascisti e della delle dinamiche di potere interne al fascismo e delle tecniche diciamo di acquisizione del consenso attraverso le organizzazioni del regime questo percorso diventa essenziale uno delle per esempio degli aspetti messi in luce dalla storiografia è che questo corporativismo nato con l'intento di abbattere la rilevanza degli interessi sezionari particolari per celebrare al massimo l'interesse di questa totalità statuale ha in realtà finito per produrre degli effetti ma contrari cioè nel rendere più forte il senso di appartenenza ai diversi gruppi e organizzazioni mi spiego cioè l'identificarsi più con l'appartenenza al gruppo piuttosto che al fascismo che allo Stato anche perché lo vedremo tra un attimo questo Stato che come dire è portatore di un forte progetto di convivenza di una visione del mondo intorno al quale deve radunare consenso attivamente appunto lei sa che il fascismo usa anche mezzi i cinegiornali cioè usa anche le nuove tecnologie per acquisire consenso istituisce nuove festività cioè c'è il tentativo di celebrare diciamo i fasti di questo regime ma poi grattando grattando cioè chi è che si fa dove si produce questa visione del mondo si rifiuta l'idea che il fascismo aderisca alla visione tedesca cioè che diciamo sia una visione vicina a quella tedesca del Führerprinzip quindi l'idea che sia il Führer il condottiero del poco quindi non è mussolinismo il partito certo ma anche il partito raduna al proprio interno molte anime per esempio per Bottaia il ministero delle corporazioni il suo diciamo così ministero delle corporazioni però alla fine dove si mette a fuoco questa visione nel quadro di una realtà come quella fascista nella quale veramente il fascismo è interpretato diversamente anche da chi vi aderisce con entusiasmo quindi ci sono dinamiche interne al monismo che sono complicatissime cioè è chiaro che l'etichetta è unica sì però ci sono molte anime all'interno ovviamente anche molti scontri cioè la storiografia ormai quando parla di complessità del fenomeno fascista che forse è la sigla distintiva dei lavori degli ultimi vent'anni trent'anni sul fascismo dice che il fascismo è un fenomeno complesso non è un modo per eludere la domanda sul fascismo per non pronunciarsi è un modo per dire occhio questa cosa che noi chiamiamo fascismo si nutre di una pluralità di idee di spinte di spinte di visioni del mondo e ora appunto oggi noi parliamo di due che molto vicini dal punto di vista della visione del corporativismo ma nel ciclo di lezione avrete occasione per confrontarvi con altre visioni insomma diverse la ringrazio la ringrazio la ringrazio la ringrazio allora quindi il tentativo è quello di inaugurare un sistema di governo del fenomeno sindacale appunto che dosasse in maniera accorta spazi di autonomia molto appunto più illusori che reali e intervento eteronomo molti giuristi coevi forse la lettura più famosa è quella di Carnelutti apprezzarono questa norma addirittura la rimpiansero alla caduta del regime per esempio Carnelutti ritiene che il riconoscimento del diritto di sciopero in costituzione sia un grave errore e vede nello sciopero un vero e proprio atto di guerra cioè sostanzialmente vede nello stato democratico uno stato che accetta che si producano fenomeni di guerra al proprio interno Carnelutti resta da questo punto di vista un giurista ottocentesco cioè un giurista fortemente legato a una visione individualistica del fenomeno giuridico non riesce a mettere a fuoco la categoria del diritto collettivo per lui l'interesse di categoria è una somma di interessi individuali e vede in questa legge perché appunto la legge con i suoi occhiali una legge che in qualche modo mette ordine in un fenomeno faticoso che è quello sindacale faticoso perché appunto portatore di conflitto si limita a disciplinare in maniera come dire energica il fenomeno sindacale lasciando uguali a se stessi gli estremi della catena cioè l'individuo e lo stato quindi semplicemente è un aggiornamento delle tradizionali coordinate dell'ordine tarato sulla specificità della società novecentesca che contempla anche la presenza dei sindacati dice questa legge dice Caneluti fa un'opera di bonifica usa questo termine di terre appena emerse le terre appena emerse sono appunto le organizzazioni sindacali in realtà diciamo nella visione sia di Rocco che di Bottai queste queste diciamo il corporativismo e anche l'organizzazione quindi del fenomeno sindacale doveva rappresentare una tappa un modo per ripensare anche i contorni dello spazio privato del diritto quindi per ripensare anche la funzione il ruolo dell'individuo al cospetto dello stato voi forse sapete che ci fu una parte radicale dei pensatori dei teorici del corporativismo che addirittura propugnò l'abolizione del diritto privato e l'integrale pubblicizzazione del giure della dinamica giuridica non è questo il caso né di Rocco né di Bottai ma sicuramente loro aderiscono all'idea che la visione dell'individuo nello stato fascista debba essere una visione di massima strumentalizzazione degli apporti individuali dice Rocco l'individuo è un elemento infinitesimale transeunte del gioco sociale quindi l'individuo passa allo stato resta e quindi l'individuo deve essere utilizzato perché possa rendere il massimo servizio al tutto alla totalità statuale lui dice la cura del benessere individuale è una funzione dello stato fascista perché un organismo prospera quanto migliore la salute delle sue cellule quindi la cura dell'individuo è funzionale alla massimo rendimento diciamo così dell'individuo per la macchina statuale dice il fascismo non vuole cito l'annullamento dell'individuo anzi desidera il suo sviluppo in quanto vuole utilizzare l'individuo con tutte le sue passioni e le sue aspirazioni nell'interesse sociale e ancora la libertà è una concessione dello stato fatta non nell'interesse dell'individuo ma nell'interesse dello stato quindi l'idea è che questa organizzazione corporativa rappresentasse come dire un criterio di organizzazione statuale dello spazio sociale finalmente lo stato vede la società e la organizza quindi il corporativismo come momento di organizzazione statuale dello spazio sociale che aveva alla propria estremità anche una totale funzionalizzazione dell'individuo rispetto alle esigenze del tutto Bottai per esempio nel 1930 in un'occasione solenne nella occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico pisano voi sapete che Pisa è una fuscina appunto di studi corporativi c'è la scuola di studi corporativi appunto fondata e voluta da Bottai insegna per tanti anni a Pisa Lorenzo Mossa che invece è una voce solidarista eterodossa della visione corporativista ma Bottai in questa occasione solenne affronta il problema del rapporto tra la rivoluzione francese e la rivoluzione fascista l'intento del suo discorso è dichiarato dice bisogna evitare che la frontale contrapposizione ai principi della rivoluzione francese che noi dice lui con giovanile baldanza abbiamo sostenuto porti a una sorta di disistima internazionale nei confronti del fascismo insomma bisogna evitare il fatto che noi fascisti abbiamo un po' troppo veementemente contestato i principi della rivoluzione francese e che questo ci faccia passare dice Bottai per retrogradi invece bisogna come dire ricostruire in maniera più accurata i rapporti tra fascismo e rivoluzione francese rivoluzione francese assunta un po' come l'inizio di un'era nella Europa continentale Bottai a tal fine essendo un uomo appunto astuto distingue due anime della rivoluzione francese un'anima effimera caduca un po' prigioniera degli entusiasmi rivoluzionari e un'anima invece duratura immortale il lato immortale della rivoluzione francese è chiaramente quello di aver messo a fuoco la nozione di sovranità dello Stato e per Bottai questo è per Bottai il grande lascito diciamo che la rivoluzione francese lascia all'Europa l'aver messo a fuoco con convinzione la nozione di Stato sovrano il lato invece più effimero appunto più caduco della rivoluzione francese più fallimentare è quello che ha portato a immaginare l'esistenza di diritti dice Bottai che aspetterebbero agli individui non solo prima e a prescindere dalla presenza dello Stato i diritti naturali ma addirittura immaginare diritti che possano vincolare o in qualche modo limitare il potere dello Stato cioè questa è stata un'acquisizione fallimentare che ha condannato è stato l'inizio della fine dell'autorità dello Stato che chiaramente il fascismo per Bottai supera quindi Bottai mira ad accreditare il fascismo come non solo parte integrante della storia europea e non come una sua escrescenza eccentrica bizzarra ma mira ad accreditare il fascismo come l'esito migliore l'esito più fedele più autentico di quella gloriosa intuizione relativa alla sovranità dello Stato il diritto soggettivo è una scoria del passato di cui bisogna liberarsi per riuscire appunto a insediare un potere di qualità nuova e qui vengo alla conclusione allora per Rocco diciamo che forse il fatto che muoia nel 35 ci rende chiaramente spezza in due la storia ma probabilmente diciamo per la sua visione il corporativismo poteva dirsi anche realizzato già con la legge del 26 cioè la sistemazione autoritaria diciamo così del fenomeno sindacale probabilmente poteva esaurire la missione corporativa dello Stato anche Rocco è attento agli aspetti della cattura del consenso della propaganda ci sono per esempio alcuni suoi scritti anteriori alla presa di potere del fascismo in cui lui in maniera molto lucida segnala qual è lo scopo della propaganda in una società di massa dice la propaganda non è quella del conferenziere o dell'opuscolo cioè non è una robetta così un po' charliera dice la propaganda è l'opera di persuasione ogni giorno svolta dagli emissari dello Stato da cui le persone hanno molto da sperare e molto da temere e dice in ogni piccolo comune c'è un segretario comunale un prete una maestra un medico cioè identifica tutta una serie di figure di riferimento per quella comunità che possono farsi veicoli di trasmissione di valori più e meglio appunto dell'opuscolo o della conferenza appunto offerta quindi non è vero che Rocco non è sensibile a questi aspetti ma probabilmente dal suo punto di vista forse una lucidità pragmatica questa si molto del giurista col 26 si poteva dire conclusa la fase corporativa anche perché poi c'erano tutte le altre leggi fascistissime che strutturavano in maniera molto chiara un nuovo tipo di stato ora sempre quel libretto di Ungari mette in luce anche un problema che sollecitava la domanda dello studente cioè il problema di come distinguere il sistema corporativo da sistemi di tipo socialista bolcevico lo dico in maniera un po' grossolana cioè questa istanza di strumentalizzazione degli individui di trasformazione della società in una sorta di milizia diciamo posta a servizio dello stato poteva anche avallare come dire processi di livellamento sociale che sarebbero stati disfunzionali non solo perché avrebbero reso più difficile distinguere la terza via fascista dall'esperimento tipo socialista ma anche perché la strutturazione gerarchica del sociale rappresenta un'ulteriore decisiva tappa di questa visione dello stato fascista cioè lo stato fascista è uno stato gerarchico ed è uno stato organico questo è una cosa insistita in maniera quasi asfissiante nella pubblicistica di regime e la gerarchia non indica il naturale di sporsi diciamo delle pedine sulla piramide sociale ma indica l'esito di questo sforzo di progettazione dello stato cioè lo stato che organizza gerarchicamente il corpo sociale da questo punto di vista Rocco dice che c'è una legge naturale che è quella della diseguaglianza che in maniera legittima porta diciamo a distinguere tra chi ha di più scusate la semplificazione e chi ha di meno e se diciamo tramontata la società di ansia regime nella quale era l'ordine settuale e corporativo a disporre gerarchicamente il corpo sociale tramontata quella società nelle società individualistiche è stato il mercato a disporre gerarchicamente la società e allora dice Rocco forse lo stato fascista può anche sfruttare queste diseguaglianze prodotte dalla dinamica economica purché non se ne faccia sopraffare ma in qualche modo le riesca se necessario a governare quindi senza bisogno di spingersi diciamo sui più impervi sentieri della terza via della pianificazione della programmazione la legge sindacale poteva come dire sistemare un grosso problema quello della posizione dei sindacati mantenendo diciamo per il resto viva e vitale quei processi di distribuzione gerarchica del sociale che si producevano in gran parte per effetto del gioco economico mentre Bottai e questa è una differenza importante Bottai plaude alla legge del 26 ma la considera appunto una tappa importante perché chiarisce dice Bottai che il sindacato non è frutto dell'autonomia organizzativa del sociale ma è frutto di una scelta di organizzazione dello Stato lo dice chiaramente ma deve rappresentare per lui solo l'inizio di una più ampia stagione di governo globale della società novecentesca è per questo che per Bottai sindacato partito e corporazioni dovevano rappresentare gli snodi nevralgici di un ordine che gravitava in gran parte dal suo punto di vista sotto legida diciamo del ministero delle corporazioni il partito dice Bottai è l'alleato naturale del sindacato e della corporazione incaricato di suscitare negli scritti cito convinzioni profonde e accanite cioè doveva veramente essere costruita questa macchina di persuasione che richiedeva la partecipazione di tutti gli attori politici economici sociali anche a fine di pianificazione economica tanto che si è parlato anche di una venatura anticapitalistica del suo pensiero e per Bottai diciamo vi leggo in conclusione una frase in una sua valutazione retrospettiva questi vent'anni un giorno una specie di diario che lui pubblica diciamo alla momento in la caduta del fascismo chiarisce come ancora molto è da fare cioè come il problema non si è concluso con la caduta di Mussolini lo Stato che le destre vogliono forte non può essere soprattutto non può mantenersi sale se non identificandosi con la società del suo tempo quale è con le forze appunto che il progresso economico sprigiona nella concreta realtà quindi uno Stato forte o nasce dalla concreta come dire visione dalla realistica visione dello strutturarsi delle forze economiche o non può essere e poi va avanti e poiché la realtà appoggia o va a sinistra verso un'economia di massa collettiva lo Stato accettandola e facendola costituzionalmente sua non rista dall'essere forte anzi centuplica la sua forza rimane cioè uno Stato di destra con una struttura economica e sociale di sinistra sinistra per lui è sensibile diciamo alle masse quindi l'inquadramento corporativo per lui doveva essere questo un modo per centuplicare l'autorità del Stato muovendo da una ricognizione realistica delle relazioni sociali né chiaramente per Bottai il problema era stato risolto dalla Costituzione con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro lui lo definisce modesto e timido perché dal suo punto di vista senza un insediamento pubblicistico di partiti e sindacati nel nuovo assetto costituzionale si sarebbe replicata quella visione individualistica della convivenza che aveva già portato lo Stato al collasso all'indomani della Prima Guerra mondiale secondo lui diciamo le scelte fatte dalla Costituzione potevano essere compendiate sotto la frase benvenuto signor Chapellier cioè dal suo punto di vista la Costituzione risbriciolava in una visione autonoma la consistenza del sociale e con questo diciamo avviava lo Stato a un sicuro deperimento chiaramente è una visione condizionata insomma del tutto contestabile ma rilevante per capire come anche la caduta del fascismo non faccia cadere per lui il problema cruciale che è quella della pianificazione dell'organizzazione economica sociale l'unico perché è considerata appunto l'unico strumento capace di salvare di vendicare l'autorità dello Stato io ho finito e vi ringrazio grazie a lei siamo gratissimi alla professoressa Stolzi ho anche ricevuto qualche messaggio di complimenti per esempio dalla professoressa Carinci che ha seguito la lezione e per la completezza e anche la chiarezza in particolare il mio pensiero va sempre agli studenti che possono non avere un quadro completo della situazione in questi casi si dice gli stimoli sono tanti va bene ma lasciamo perdere il tanto mi premeva anche un po' per alleggerire la lezione ricordare che noi abbiamo anche noi pisani abituati a vivere nella sapienza pisana abbiamo toccato con mano credo anche lo studio di Votai perché come ricordavo agli studenti la lezione scorsa l'istituto il gloriosissimo ormai scomparso istituto di diritto del lavoro di Pisa ospitava la direzione della scuola superiore di studi corporativi e lo studio fatto di una scrivania poltrone divano e altri arredi risale agli anni trenta quindi è presumibile che fosse lo studio di Votai così almeno io l'ho sempre pensato ma poi Pisani ce ne sono passati tanti nella esposizione della professoressa Stolzi a partire da quel mitico personaggio che era Lorenzo Mossa di cui si raccontano episodi incredibili insomma oggi nel mondo nel quale viviamo veramente come dire sembrano favole si diceva del professor Mossa ma questo me l'ha raccontato chi l'ha conosciuto io non l'ho conosciuto perché sono arrivato dopo sono arrivato alla fine degli anni sessanta eccetera ma che il suo rigore nell'insegnamento e soprattutto nel rispetto del pubblico denaro era tale che se era ammalato impediva non andava a prendere lo stipendio perché diceva che non era giusto che una persona che non aveva lavorato dovesse essere pagata tanto che non navigando nell'oro mi raccontavano che la sua famiglia sua moglie i suoi figli dovevano di nascosto da lui andare a prendere era un personaggio incredibile veramente incredibile voglio dire le indicazioni sono state tante ti colpisce questa forzatura della lettura storica di Bottai che dice che la rivoluzione francese ha messo il centro della sovranità dello Stato forse anche la rivoluzione borghese per eccellenza e l'individualismo per eccellenza quindi i politici si servono della storia evidentemente al loro uso e consumo e poi colpisce ma insomma è nota la posizione di Carnellutti anche lui un individualista sul quale chi volesse approfondire può andare a leggere i tanti scritti dedicati a lui da Umberto Romagnoli che insomma ha molto lavorato in cui si intravede una profonda stima per il grande giurista ma naturalmente una certa distanza dal punto di vista ideologico che se ne mettono in evidenza gli aspetti più insomma deteriori della sua ideologia allora ci ho detto ci sono gli studenti abbiamo ancora un quarto d'ora ecco come orario accademico ci sono gli studenti che inviterei oltre al Paglini che è sempre molto vivace e ha già fatto la sua domanda se c'è qualche altra domanda da fare alla professoressa Stolzi ma ci sono anche dottorandi e dottorande quindi forse loro con maggiore consapevolezza magari di conoscenze possono fare qualche domandina salve buongiorno mi ascolta si la sento non la ve ma la sento può farsi anche può palesarsi può farsi vedere sì certo scusi li saluta carlos agurto professore san marco perù in america del sur prima voglio ringraziare la professoressa per la sua bella lezione anche l'organizzatore un tema che evidentemente il tema del fascismo diritto è un tema molto delicato per l'esperienza giuridica italiana evidentemente sappiamo diciamo tutte le sue implicazioni però una cosa che vedendo questo tema e anche la relazione della professoressa è quanto di pensiero fascista ci sono le normative tanto a livello del diritto al lavoro come il diritto civile per esempio sempre mi è risultato una cosa molto come dirlo molto estupice quando i civilisti italiani dicono ci sono soltanto alcune cose del fascismo ma con le riforme le cose che si hanno tolto dopo la caduta del regime del ventennio tutto va bene però mi sembra che questa sia un'idea molto sbagliata nel senso che il codice le leggi sono stati prodotti da un pensiero di un'improntazione e questo non si può scappare né nell'aspetto normativo e nell'aspetto del pensiero per esempio pensiamo Betty permette un esempio di altri personaggi che la professoressa con forma magistrale ha spiegato allora la mia domanda o la mia reflexione è questa quanto di fascismo ci sono adesso sia nel diritto del lavoro sia l'impronta che la professoressa ha spiegato perché ancora credo che i saldi che si deve fare con il fascismo l'Italia non l'ha fatto ci sono evidentemente lavori interessanti penso per esempio uno dei ultimi libri del professor Guido Alpa o ancora alcuni studi di Alessandro Somma o ancora qualche studio che colì sul fascismo però ci sono le conti ancora non si sono saldati non so ancora allora questo sento un po' che la cultura giuridica italiana è molto reticente di trattare questo tema non so se questo anche si presenta in Germania con il nazismo io credo di sì perché ci sono anche i libri sul nazismo e il diritto non sono molti almeno quello che noi leggiamo in America Latina però sull'Italia no c'è solo un po' la sacralità perché sono come i santi per esempio penso a Beti penso a quasi molti giuristi che erano fascista o filifascista e che sono un po' come sacri come santi diciamo che non si possono toccare non so ecco lei ha fatto una domanda cruciale e ora chiaramente bisognerebbe dedicarci un ciclo di seminari quindi non una risposta di cinque minuti diciamo che lo storico insomma che forse per prima in maniera molto forte ha posto il problema la continuità continuità nelle norme nelle istituzioni nelle persone forse il caso più clamoroso è quello di Azzariti che da presidente del tribunale della razza è stato poi presidente della corte costituzionale quindi non di un tribunale qualunque corte che peraltro aveva anche il compito di smantellare in tutto in parte appunto un insieme di norme gran parte delle quali erano venute erano nate gli anni del fascismo devo dire che negli ultimi anni ecco magari attraverso studi settoriali però si sono precisati i contorni di questa continuità l'ordinamento corporativo fu smantellato dal governo alleato e devo dire è stata una delle vittime immediate delle curazioni forse perché anche la più facile da uccidere non so come dire nel senso che poi non ha l'uccisione del corporativismo non ha provocato grandi conseguenze per esempio Lorenzo Mossa che invece aveva una visione solidarista del corporativismo riteneva che potesse avere una seconda vita coerente con i principi dello stato di traffico e quindi vide lo smantellamento del corporativismo anche come il definitivo trionfo di una logica brutalmente capitalistica diciamo dell'economia brutalmente nel senso insomma dell'individualismo economico competitivo se penso a Gino Giugni per dire in un libro che non si trova spesso che mi pare che si intitoli di idee costituzionali della resistenza o qualcosa di simile sottolinea un'altra continuità più sotterranea ma non meno rilevante cioè i tecnici della contrattazione collettiva secondo lui fino agli anni sessanta sono gli stessi quindi cambiano le sigle cambiano i presupposti complessivi ma c'è una continuità ora diciamo l'interpretazione noi siamo giuristi diciamo di questa continuità si può provare a dare anche un'interpretazione in buona parte diciamo così io penso a un libro di Alpa nel quale lui dice la vigenza in un unico contesto normativo in un unico contesto temporale di norme a venti di verso origine rende possibile lui usa questa espressione piuttosto immaginifica la convivenza tra lui dice le antiche fondamenta romani palazzi borghesi ottocenteschi e gli edifici littori cioè gli edifici fascisti perché perché diciamo se noi prendiamo il novecento come il momento storico nel quale l'ordine la convivenza diventa pensabile attraverso un progetto perché le costituzioni democratiche esprimono un progetto di convivenza diverso da quello evidentemente totalitario ma comunque se lei apre la costituzione italiana trova chiaro tracciato un progetto un'idea di convivenza allora diciamo la nuova finalità chiamiamola democratica può in qualche modo servire a realizzare una torsione dei significati anche di norme che sono nate sotto un diverso cielo politico chiaramente dopo un minimo passaggio epurativo voglio dire le norme di discriminazione razziale certe norme della pubblica sicurezza eccetera e poi dico sempre anche ai miei studenti il problema non è che i codici siano stati tutti promulgati nel periodo fascista tranne quello di procedura penale che è stato l'unico novellato che ormai il problema è perché 70 anni l'Italia democratica non sono stati in grado magari di produrre una nuova codificazione detto questo però bisogna stare anche attenti a dire ci siamo tirati dietro a criticamente tutto ciò che dal fascismo arrivava pensi al codice di procedura civile certo c'è chi io non sono una processuale civilista non ho le competenze c'è chi dice che c'è una visione autoritaria dell'organo giurisdizionale però l'ha scritto Piero Calamandré c'è anche il grande problema che il regime tentava a trovare tecnici capaci di affrontare di sostenere un'opera codificatoria e quindi si è spesso servito di personaggi che non erano fascisti io sinceramente Filippo Vassalli non mi sentirei di considerarlo un giurista fascista scritto il codice civile del 42 lui dà una ricostruzione molto intelligente dell'opera codificatoria certo lo fa anche per difendere la sua opera è chiaro ma però mentre molti giuristi anche Pugliatti o allo stesso Calamandré dicono che le scorie fasciste nel codice sono scorie dice Calamandré che possono essere tolte come bestioline parassite che si estraggono con le pinzette o Pugliatti dice a un aggiornamento del codice del 65 insomma l'impianto individualistico più o meno resta quello Vassalli dice non è vero dice questo è un codice novecentesco c'è un abisso tra il codice del 65 e il codice del 42 ma cos'è che per Vassalli lo rende non fascista il fatto che quel codice sia stato scritto da una scienza giuridica capace di distinguere tra ciò che aveva una radicazione storica profonda cioè tra fenomeni storici che avvenivano anche in contesti diversi reti da regimi non autoritari e la direttiva politica cioè l'idea del giurista sta come un soggetto che in qualche modo intrattiene con la storia un rapporto privilegiato e sa come dire raccogliere i frutti duraturi anche del presente quando Vassalli dice il codice parla ancora della proprietà ma diciamo se si fa meno della proprietà si può fare a meno di un codice civile tutto intero e quattro righe dopo dice il codice diciamo accoglie l'idea della proprietà come funzione come funzione sociale quindi con un legame stabile strutturale col potere pubblico non dice due cose contraddittorie dice che il novecento apre un campo di tensione che impone di fare i conti con la relazione tra privato e pubblico e lui dice il codice fa i conti con questa relazione in maniera non fascista poi ha ragione ha torto ognuno può pensare come vuole però per dire occhio anche a fare tutta l'erba a un fascio e a dire tutto quello che è stato nel ventennio ha sicuramente un marchio chiaro perché proprio perché il fascismo fu diversamente interpretato fu diversamente vissuto poi l'altra cosa che dico io vent'anni sono tanti troppi per chi ha dovuto patire una dittatura perché è morto per la dittatura ma a livello di processo storico sono una briciola mi spiego cioè non è facile rinnovare a Binis il volto di un ordinamento in vent'anni e poi l'altra cosa è che appunto anche il fascismo sconta al proprio interno conflitti contrasti differenti vedute che un po' ne hanno indebolito la capacità di impregnare l'intera vita l'intera vita italiana a differenza di quanto è avvenuto in Germania dove ci sono stati presupposti diversi anche di inquadramento autoritario questo per dirle che lei ha ragione che i conti con questo devono essere fatti che spesso si è teso a sottovalutare gli influssi del fascismo sulla storia successiva ma bisogna al tempo stesso essere capaci di analizzare la complessità del fascismo e quindi la complessità dell'eredità del fascismo altrimenti si cade nell'errore opposto posso completare intanto sono lieto che il collega Agurto si sia collegato dal Peru ma lo vorrei invitare a seguire anche la prossima lezione che sarà se può il primo marzo perché come dire la professoressa Stolzi ha lanciato un ponte verso quanto ci dirà il professor Cazzetta sulle eredità sui giuristi post costituzionali dell'impianto pubblicistico corporativo perché comincerà a parlare del grandissimo costituzionalista Costantino Mortati quindi c'è un ponte e già lì si comincerà a discutere di questi temi e poi vorrei anche dire che io sono piuttosto della idea che per prima è stata ricordata intorno al codice civile italiano il codice di diritto privato perché in realtà effettivamente dobbiamo parlare di scorie cioè c'è una incastellatura pensiamo quello che è più di comune interesse per chi si occupa di diritto del lavoro pensiamo al libro quinto del codice civile il libro quinto del codice civile ha un'incastellatura che chiunque la legga conoscendo il mondo che le girava intorno capisce subito che è finta che questa idea della funzionalizzazione dell'impresa e del diritto soggettivo è messa lì come dire per accontentare una visuale autoritaria e centralista la gerarchia lo stato l'impresa il lavoratore ma nella realtà per quello che si è visto durante il regime nella storia tutto questo nella sostanza non si è mai realizzato Mussolini è andato a inaugurare gli stabilimenti della Fiat gli imprenditori sono sempre stati liberi di svolgere la loro attività e nessuno stato ha mai tarpato loro le ali per limitare la produzione e funzionalizzarla al superiore interesse dell'economia nazionale come leggiamo nelle prime articoli del libro quinto e quindi questa castello di carta o di carte come volete è caduto subito dopo si è sbriciolato dopo l'avvento della Costituzione e si è potuto costruire ragionare di un diritto privato del tutto spogliato da questa questa rivestimento più o meno fittizio quindi la struttura del diritto privato è quella di un codice individualista molto più vicino evidentemente al codice napoleonico che ad altre strutture normative comunque grazie ancora della presenza che auguriamo ci auguriamo possa essere rinnovata anche per le prossime lezioni c'è qualche c'è qualche altro qualcun altro che vuole intervenire posso fare una domanda prego prego si volevo buongiorno a tutti e grazie della lezione volevo chiedere come le risulta che fossero strutturati i rapporti tra il sindacato ovvero la corporazione e il partito molto complessi come sempre perché sono le due anime che dovevano come dire marciare all'unisono ma che spesso invece confliggono quindi diciamo il partito doveva designare alcuni membri e la corporazione il partito dal 41 diventa sostanzialmente il gestore monopolista del collocamento dei lavoratori oltre al fatto che la tessera del PNF a fasi alterne è requisito o meno per l'assunzione o per le promozioni nelle carriere di lavoro quindi c'è un'interferenza forte del PNF nella gestione delle relazioni di lavoro e c'è una formalmente il partito è fuori diciamo dal sindacato ma siccome appunto il riconoscimento dei sindacati era subordinato alla prova di requisiti di sicura fede nazionale di buona condotta dal punto di vista nazionale è chiaro che spesso i quadri sindacali venivano anche attinti dal partito quindi il rapporto è molto complesso cioè non c'è e a volte è molto conflittuale anche perché le anime del partito non sono non è l'anima anche del partito non è univoca come quella del sindacato quindi se lei per esempio legge quel libro di Salvatore Lupo che si intitola lo Stato ha un sottotitolo con totalitario comunque se legge Salvatore Lupo tipo il fascismo ora l'ho anche recensito io l'ho letto ma ora non mi viene in mente comunque lui è bravissimo nel ricostruire le tantissime dinamiche interne al fascismo quindi le diverse anime del partito le diverse anime del sindacato lo sconto tra centri e periferie tra organizzazioni centrali e organizzazioni periferiche in tutto questo poi c'è il terzo passaggio che sono poi le figure diciamo politiche il podestà il prefetto c'è anche tutto l'apparato pubblico che interferisce in maniera che dialoga in maniera diretta e continua col partito col sindacato poi il partito è un'entità astratta perché poi ci sono tutte le organizzazioni dipendenti dal partito dal dopolavoro alle organizzazioni della gioventù all'inquadramento quindi tutta questa miria di riorganizzazione si relaziona in maniera complessa e spesso conflittuale se mi consenti di aggiungere una cosa ecco la politica è un regime ecco sempre rispondendo alla domanda di Barbara c'è da tenere presente anche una cosa un evento che succede nel 1928 che i fascisti chiamano lo sbloccamento dei sindacati che cos'è lo sbloccamento è la notte dei lunghi cortelli praticamente perché il sindacato fascista il grande sindacato fascista viene spezzettato in tanti piccoli sindacati provinciali per far fuori sostanzialmente quello che è stato definito il duce del sindacalismo fascista Edmondo Rossoni di cui poi appunto cioè che non è mai diventato una persona famosa non lo si ricorda molto però Rossoni stava acquisendo un potere enorme come leader di questo sindacato monolitico che nel 1928 caso strano viene viene spezzettato viene frammentato viene diviso e quindi è molto più facile da quel momento in poi per il governo per il regime per il partito governare un sindacato assolutamente frammentato perché erano tante federazioni provinciali non c'era più come interlocutore il grande sindacato nazionale bene con questa integrazione crediamo di aver risposto alla dottoressa grandi ci sono altre domande va bene allora non mi resta che ringraziare ancora con calore per la bellissima lezione Irene Stolzi grazie a lei grazie a te quindi probabilmente ci sentiremo insomma avremo altre occasioni di confronto saluto tutti gli amici collegati Lorenzo lo vedo anche quelli che non vedo e quindi agli studenti credo che qualcuno sia rimasto su Pesti credo sì che ci sono ancora un bel po' di collegamenti do appuntamento a lunedì prossimo con il professor Cazzetta che appunto comincerà a entrare a analizzare i giuristi post costituzionali Simone ci sono altre comunicazioni di servizio da dare se no chiedo a diciamo anch'io intanto ne approfitto e ringrazio anch'io la professoressa Stolzi moltissimo per questa lezione davvero interessante e la comunicazione può essere relativa al fatto che i prossimi seminari si svolgono in questa stessa aula virtuale quindi niente di più facile per partecipare io per chi non l'avesse già sotto mano ho rimesso la locandina diciamo nella chat e quindi con questo diciamo concludo siamo a posto grazie un caro saluto a tutti e agli studenti ci vediamo lunedì bene grazie mille professore grazie mille professoressa arrivederci grazie 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 arrivederci grazie ciao caterina ciao 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 Grazie a tutti.